Ministro, possiamo definirla quella di domenica prossima la gara di tutte le gare, la madre di tutte le partite perché affronterete l'adattino noir e vincendo è chiaro che si punterebbe veramente in alto. Ma io la considero la figlia di tutte le partite, la madre non direi perché penso che sono tante figlie delle grandi partite. Una partita come tutte le altre, insomma. Una partita che stiamo preparando in maniera serena, in maniera tranquilla, sappiamo benissimo di affrontare l'avversario di tutto rispetto che fino a domenica scorsa ha condotto il campionato in terza della classifica per cui qualche merito ce l'avrà. Facendo un attimo un passo indietro, contento del pareggio ottenuto a Casselbuono oppure considerato che il pareggio dei locali è giunto in zona Cesalini, ci è rimasto male? Ma sai, questi sono i classici bicchieri, mezzi vuoti e mezzi pieni. Prendere i gol nei minuti finali rimane un grande rammarico di poter... Però devo fare un plauso ai ragazzi, anche se avevamo delle assenze, dovevamo deficitare in qualche reparto, i ragazzi hanno fatto il massimo. Sono contento per quello che stanno facendo, stanno lavorando alla grande, sono molto fiducioso. E' arrivato uno nuovo difensore centrale, Russello, giocherà già da domenica prossima? Vedremo, stiamo valutando le condizioni del ragazzo, con la consapevolezza di metterlo in condizione di poter giocare domenica. E per domenica prossima è chiaro che il generale si aspetta il pubblico nelle grandi occasioni, perché lei sottolineava che non è la madre di tutte le partite, è la figlia di tutte le partite. Dunque, quale miglior contributo può dare il dodicesimo uomo in campo? No, ma penso che lamentarsi del pubblico. Noi abbiamo avuto sempre un pubblico importante in questo progetto societario, dove ci accompagna domenica al mente anche in trasferta. Io devo dire che domenica scorsa a Castelbuolo, facendo tanti sacrifici e tanti chilometri, la tifoseria organizzata è stata presente. Certamente, in questo momento magari dalle feste eccetera eccetera, il tifoso c'è sempre. Magari uno non è che deve fare un appello, sarebbe per i teri, insomma, chiedere alla gente di venire allo stadio. Io penso che è giusto che allo stadio vengano i tifosi, quelli che vogliono bene il gelacalcio, il classico consumatore dello spettacolo e altre persone che, insomma, si vogliono avvicinare a questa realtà. Non è giusto dire venite allo stadio, insomma, attifare per la vostra squadra. La squadra è vostra, noi rappresentiamo il gelacalcio, per cui chi si sente tifoso, insomma, viene allo stadio. Dovrebbe essere un fatto normale. Sì, io penso che il tifoso è il tifoso, l'ultras è l'ultras, il consumatore dello spettacolo è quello che ogni tanto viene allo stadio. Io mi affido all'intelligenza del gelese, che sa benissimo che è la squadra del cuore, dove ci tiene tantissimo, e che noi, penso, come società, come squadra, stiamo facendo il massimo per poterli avvicinare di nuovo allo stadio. Grazie.